Manutenzione degli edifici pubblici e delle scuole, pulizia di piazze, strade e giardini, aiuto nell'assistenza di anziani e disabili. Sono queste le attività che potranno svolgere i 1175 richiedenti asilo attualmente presenti sul territorio piacentino. 1154 profughi sono accolti nelle strutture private, mentre 21 in quelle del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, lo Sprar. Sono i dati aggiornati a fine settembre resi noti dalla regione Emilia-Romagna in occasione del rinnovo dell'accordo tra la stessa regione, il forum del terzo settore, i sindacati, le cooperative sociali e l'Anci. Il protocollo, spiega la presidente regionale Elisabetta Gualmini, riprende per la prima volta le indicazioni del decreto Minniti sull'immigrazione, in cui si incentivano i comuni a organizzare attività di volontariato per i richiedenti protezione internazionale. La precedente intesa, sottoscritta nel 2015, ha permesso di impiegare in attività di volontariato oltre mille persone in più di 1.500 interventi. Oggi sono 14.510 i richiedenti o titolari di protezione internazionale umanitaria accolti in Emilia-Romagna. Di questi, 13.213 sono accolti nei centri di accoglienza straordinarie negli AB, mentre 1.297 nel sistema Sprar. Il maggior numero di richiedenti asilo è presente a Bologna con 2.435, seguono Modena con 2.087, Reggio Emilia con 1.945, Parma con 1.790, Ravenna con 1.482, Ferrara con 1.349, Piacenza con 1.175, Forlice-Sena con 1.164 e infine Rimini con 1.083. Grazie a tutti.